Per tanti, tantissimi italiani, questo è diventato un oggetto del desiderio, il passaporto, lo strumento per recarsi fuori dall'Unione Europea, anche nel Regno Unito, che da quando la Brexit ha sancito il distacco di Londra dall'Unione Europea, beh, insomma, necessitiamo del passaporto per andare a Londra o in tanti altri posti. È un oggetto del desiderio ormai da molto tempo, c'era stato un effetto un po' tsunami, se vogliamo, di molte richieste dopo la pandemia, ora questa patologia è diventata cronica e ora riuscire ad avere il passaporto è diventata veramente un'impresa titanica. Per questo ne parliamo da tempo, da un anno, ma vediamo che la situazione non sta migliorando più di tanto e allora, al sole 24 ore, in varie forme abbiamo deciso di dedicare attenzione a questa dinamica per provare a trovare, suggerire e identificare dei modi per risolvere i problemi di molti singoli cittadini, ma complessivamente siamo riusciti in qualche modo, noi e tanti altri, a mettere in moto un meccanismo che riesca a spingere verso un esito positivo di tutto ciò. Ne parliamo insieme ai nostri ospiti, saluto subito Simone Spezia, qui in studio vicino a me. Buongiorno Simone. Ciao Marco. Buongiorno. Radio 24, conduttore di 24 Mattino, che ha raccolto le lamentele e le testimonianze di tantissimi italiani alle prese con la caccia al rinnovo, la caccia all'appuntamento del passaporto, più che del passaporto, perché questo è il vero problema. Mentre collegata con gli studi di Roma c'è Manuela Perrone. Buongiorno Manuela. Buongiorno a voi. Autrice di un'inchiesta che proprio pochi giorni fa, sulle 24 ore domenica, insomma due pagine molto ricche di spunti, dati e approfondimenti, questa è la versione cartacea, se ve la siete persa, andiamo con la regia, con Valentina Tenani a mostrare sul nostro sito web i dati di questa inchiesta che certificano una inefficienza a macchia di leopardo, Manuela, con Bari e Cosenza in fondo alla classifica e Torino che se la cava meglio. Raccontaci un po' di questa avventura di analisi tra le questure italiane. È stata un'inchiesta collettiva perché abbiamo mobilitato i nostri colleghi che lavorano sui territori e nella settimana dal 16 al 22 febbraio abbiamo tentato anche noi quella che definivi l'impresa titanica, cioè quella di prendere un appuntamento sull'agenda online, il sistema telematico per la verifica della disponibilità nelle diverse sedi, noi abbiamo sondato i capoluoghi di regione più le province Trento e Bolzano, quindi due capoluoghi di provincia autonoma e effettivamente è emersa una situazione a macchia di leopardo con alcune città in cui è possibile ottenere l'appuntamento per la richiesta di passaporto nel giro di qualche giorno fino a un mese e altre città in cui addirittura è impossibile trovare una sede disponibile perché l'agenda non offre visibilità su sedi eventuali dove poterlo fare. Perché è importante ricordare che è un'Italia a macchia di leopardo perché in realtà registriamo attraverso i dati ufficiali del Viminale anche un'enorme variabilità tra il boom di richieste dei passaporti che effettivamente a livello nazionale c'è stato perché lo ricorda sempre il ministro dell'interno Matteo Piantedosi se nel 2022 i passaporti lavorati sono stati circa 1,8 milioni nel 2023 sono diventati 2,75 milioni cioè un milione in più rispetto a ciascun anno prepandemico questo surplus ha determinato una strozzatura che è il punto critico che non riusciamo a risolvere. Questo è quello che è successo questa è la dinamica di un problema che riguarda milioni di italiani come abbiamo detto pochi pochi ore fa la nostra Filomena Greco è andata a quest'ora di Torino per provare a capire come è la situazione Torino perché è una delle città come vedremo tra poco che alla fine ha trovato anche delle soluzioni vediamo il piccolo reportage di Filomena. Eccoci in collegamento dalla città di Torino in particolare dall'ufficio centrale passaporti vedete alle mie spalle la situazione della coda delle persone in attesa di fare il documento e appare una situazione abbastanza gestibile c'è una coda incredibile quindi è presumibile che entro le 13 che è la chiusura dell'ufficio al pubblico tutti potranno avere insomma la loro pratica chiusa in qualche maniera e poi ci vogliono una decina di giorni insomma per ottenere il passaporto per ottenere il documento. Cosa è successo a Torino? Torino ha avuto l'anno scorso problemi molto in seri nella fase di prenotazione del pubblico per poter accedere all'ufficio è stato difficilissimo e non c'erano date disponibili insomma le 500 disponibilità più o meno settimanali che venivano messe a disposizione andavano via troppo in fretta e allora la postura ha deciso di riaprire un po' come era in passato insomma gli uffici tutti i giorni almeno tre ore al giorno almeno quattro ore al giorno al mattino e un pomeriggio con un'apertura per tre ore questo naturalmente ha migliorato un po' le condizioni del servizio e oggi dunque è possibile venire fisicamente anche senza una prenotazione sul portale online è possibile venire personalmente senza prenotazione al mattino dalle nove alle tredici e il martedì pomeriggio dalle quindici a diciotto poter fare la propria pratica la vostra attesa è finita mi pare di capire e com'è andata alla fine siamo arrivati alle 08 e un quarto e un quarto non prenotate se devo esprimere un parere la mia domanda è perché è così difficile prenotare se poi in un'oretta e metto via te io adesso fa tutto voi avete fatto la pratica e poi verrete a ritirare voi siete tra i fortunati che sono riusciti a prenotare mi racconta che ho prenotato a settembre il 2 settembre abbiamo prenotato per avere l'appuntamento a 20 novembre per un viaggio studio scommetto per il momento non c'è ancora nulla però potrebbe essere eventualità sì insomma questa signora si è mossa per tempo per il figlio chiaramente è stata previdente però ci sono delle scadenze c'è chi nel giro di pochi giorni magari deve muoversi e deve essere nella disponibilità di poter viaggiare all'estero magari per affari magari per chiudere dei contratti magari per vendere della merce c'è un impatto economico molto importante Simone che abbiamo registrato nelle ultime settimane sì ma sicuramente c'è anche c'è una questione e quella questione ovviamente riguarda anche il settore del turismo che addirittura è arrivato a minacciare di cause legali nei confronti del ministero dell'interno c'è una questione di principio fondamentale nel senso che tutta questa gente che abbiamo visto in fila a torino tutta la gente che si sveglia come patrizia che ci ha scritto da bergamo e dice da agosto sono alla disperata ricerca di avere cinque passaporti perché ha tre figli di cui due sono minorenni hanno una corsia diversa quindi non riesce a prenotare lo stesso giorno e comunque si sveglia alle 7 e 45 alle 7 e 59 si collega e poi va in crash il sito della questura questo tutte le sante mattine sei giorni a settimana ci scrive dice tranne la domenica perché anche la domenica scrive anche il signore si è riposato e quindi dice mi riposo anch'io per cui non prendere appunto appuntamento con la questura mi pare che no no ma infatti tanto non si riesce e c'è una questione di principio tutta questa gente è gente che paga le tasse sono taxpayers che hanno che in questo momento sono sostanzialmente prigionieri di uno stato che al quale pagano le tasse che pagano anche per avere determinati servizi il quale vi sta sostanzialmente tenendo prigionieri nell'impossibilità di ottenere un documento che è fondamentale per viaggiare all'estero fuori dall'europa e li tiene prigionieri di procedure che sono fammelo dire tutta franchezza demenziali si beh insomma diciamo che non sono semplici sto andando ora il sito www.passaportoonline.poliziadistato.it e il sito non funziona incresce chiaramente questa è la vita quotidiana di tantissimi italiani che provano c'è chi dice bisogna collegarsi a mezzanotte subito dopo la mezzanotte si aprono no non è cioè a qualcuno sarà capitato però moltissimi testimoniano che questo nemmeno funziona nemmeno alle sette del mattino nemmeno alle otto andiamo a vedere con il nostro vincenzo rutigliano come è andata a lui per quello che riguarda prenotazioni di appuntamenti per chiedere il passaporto a bari e in calabria prego enesimo tentativo sul sito passaporto online polizia di stato della questura di bari di procurarsi appuntamenti utili a raggiungere gli uffici della questura piuttosto che dei commissariati della provincia per consegnare i documenti utili al successivo ritiro del passaporto nessuna indicazione di sede sia il 19 che il 20 che il 23 febbraio che ancora alle 20 03 del 27 febbraio nelle due pagine della questura di bari curate dagli stessi uffici non vi è infatti alcuna indicazione di sedi presso le quali recarsi e procedere alla consegna dei documenti e così per il commissariato di bari nuova carassi di bari san nicola di corato di gravina di puglia per il commissariato di monopoli idem per la pagina successiva per la stessa questura di via murat e per il commissariato di ps di putiniano e di vitonto neppure i tentativi di raggiungere telefonicamente l'ufficio passaporte i numeri telefoni dedicati ha dato negli stessi giorni risultati migliori al primo scatto alla risposta la conversazione telefonica è invariabilmente caduta anche sul sito online della polizia di stato dell'acquistura di potenza non vi è alcuna disponibilità di sedi per appuntamenti utili al passaporto e così sia per l'acquistura di via marconi che per il commissariato di melfi eppure giusto per questa cittadina della basilicata il 22 febbraio era stato possibile ottenere un appuntamento per il 24 successivo al 27 febbraio alle 20.09 il risultato è quello che si vede questa è la situazione nei territori che siamo andati a indagare rilevo che le imprese del turismo organizzato hanno quantificato in circa 300 milioni di euro di minore incasso per i danni provocati da questi ritardi decine di migliaia di prenotazioni per il turismo che la primavera l'estate prossima insomma rischiano di saltare e però vorrei tornare con manuela perrone perché abbiamo detto i territori abbiamo visto torino che è un caso dire virtuoso forse troppo ma in qual è comunque un territorio in cui si è cercato di intervenire aumentando le ore di apertura delle questure degli uffici venire contro in qualche modo alle esigenze dei cittadini in altre molte altre zone invece come bari come altre zone del sud la questione molto più problematica lì di contromisure insomma difetta non può a mostrarsi mi pare le aperture straordinarie gli open day si sono succedute un po in tutte le province italiane nel corso dell'ultimo anno per ovviare allo smaltimento di questo arretrato che era diventato così pesante però a me piace sottolineare un aspetto che riguarda proprio il caso per me paradigmatico di torino il quello che stiamo toccando con mano è il fallimento di una digitalizzazione incompiuta nel senso che noi abbiamo provato a utilizzare lo strumento digitale per tentare di semplificare la procedura di acquisizione della data per l'appuntamento ma è l'unico tratto dell'intera procedura che noi abbiamo digitalizzato ed effettivamente si è rivelato come dicevo prima una strozzatura invece che una facilitazione allora mi interrogo sulla digitalizzazione all'italiana perché abbiamo esempi di paesi vicino a noi li cita sempre nell'inchiesta di domenica l'ello naso in cui l'intera procedura è stata digitalizzata e esternalizzata nel senso che non è una procedura affidata interamente alle questure ai commissariati che hanno già tantissime altre funzioni da espletare con organici non sempre all'altezza per cui torino ma anche firenze hanno deciso di in qualche modo sospendere la affiancare alla procedura digitale un ritorno alla classica procedura dello sportello aperto praticamente tutti i giorni se non è un fallimento questo allora cos'è il tema di tornare al vecchio e quindi alla vecchia coda un'altra delle piaghe italiane per evitare la strozzatura della prenotazione online a me sembra un fatto grave assolutamente sì c'è una soluzione normale diciamo così quello di aumentare le ore aumentare gli sportelli insomma poi ci sono soluzioni un po furbe alle italiane di cui parleremo tra poco ma questo è un punto da precisare simone perché il problema è la prenotazione non è il fare il passaporto il passaporto si ottiene una volta presentata la domanda nel giro di pochi giorni ma teoricamente anche in poche ore possibile averlo perché che che cosa è che deve fare la questura che verifica della mare su di sì esatta la domanda esattamente questa però a me interessa molto il paradosso che sottolineava manuela esattamente perché noi in realtà siamo un paese che si sta digitalizzando e si sta anche digitalizzando bene sotto alcuni aspetti noi affidiamo alla rete facciamo delle procedure in rete che sono estremamente delicate possiamo accedere al nostro fascicolo del cittadino nei comuni ovviamente nei comuni più avanzati all'interno di questo fascicolo del cittadino ci sono un sacco di elementi delicatissimi che hanno a che fare con le nostre persone possiamo accedere al nostro cassetto fiscale io tanto per dare un'idea c'era una multa che mi ero perso per strada qualche tempo fa è diventata rotolando come succedono queste cose come una palla di neve una valanga e la rateizzazione l'ho fatta direttamente in digitale sono entrato nel sito dell'agenzia delle entrate organizzato la rateizzazione di questo di di questa cifra è una procedura delicata cioè riguarda il i miei dati il il mio rapporto con il fisco una multa che non ho pagato un'infrazione che non ho commesso allora io veramente non riesco a comprendere anche rispondendo alla domanda che dicevi tu ma quali verifiche dovrà mai fare la questura a fronte di un no di una conoscenza digitale che ha l'amministrazione della mia persona che una conoscenza digitale molto elevata dunque se posso pensare che per esempio nel caso di coppie separate con che vanno allo scontro no ci siano delle verifiche ulteriori che si debbano fare perché tu devi essere certo quella fattispecie esatto che tu devi essere certo che una persona non porti via il bambino il minorenne alla all'altra persona e questo e questo è chiaro ma finché si tratta di situazioni standard non si capisce che cosa che cosa debbano sapere effettivamente le condanne in termini penali per condivieto di espatrio sono una percentuale credo abbastanza esigua insomma anche tutte le condanne quindi ma non il problema non è questo il problema è l'efficienza di tutto il sistema anche perché c'è quello che citavo prima la soluzione un po furba con questo richiamo in causa manuela perché ne abbiamo parlato fuori onda ma insomma ci sono tanti modi per ottenere un appuntamento d'urgenza basta presentarsi no con un biglietto aereo da qui a pochi giorni per londra per esempio perché è un posto dove insomma i biglietti possono costare poco lo prendi 20 euro prendi un biglietto aereo per partire alle 4 di notte non lo farai mai tutti via 20 euro però è all'appuntamento questa è la soluzione all'italiana ma sì non parlerei proprio di soluzione all'italiana in questo caso perché è una secondo me legittima condizione che è stata data come direttiva dal centro quindi dal dipartimento della pubblica sicurezza dalla polizia di stato alle periferie per garantire ai cittadini che hanno urgenze per motivi di studio di lavoro o di semplice turismo un canale preferenziale per ottenere il documento in tempi rapidi che è veramente una come dire una garanzia minima il problema che stiamo riscontrando abbiamo riscontrato anche nell'inchiesta è che non sempre questa corsia preferenziale che dovrebbe essere resa nota attraverso i siti di ogni questura viene garantita per cui abbiamo avuto anche dei casi di colleghi che si sono presentati nei commissariati e sono stati totalmente rimbalzati perché non c'erano neanche le condizioni per fare la procedura d'urgenza questi sono i casi di patologia del sistema la stessa polizia di stato a cui lo abbiamo segnalato ci ha risposto che il canale dell'urgenza deve essere garantito assolutamente lo possiamo considerare un diritto essenziale del cittadino italiano che deve partire quindi da questo punto di vista è una garanzia che dobbiamo pretendere cioè i nostri anche chi ci sta ascoltando in questo momento deve sapere che l'urgenza deve essere accolta nelle forme che devono essere comunicate pubblicamente da ciascuna questura ecco per completezza dell'informazione emanuela tu hai riferito delle tue conversazioni con gli organi preposti off the record nel corso della tua inchiesta insomma quello che ti ha raccontato noi abbiamo provato a coinvolgere qualcuno per questa diretta e insomma comprensibilmente non è facile venirmi insomma ci è stato detto insomma no grazie passiamo la mano per questo per questa volta simone volevo aggiungere qualcosa perché tra le testimonianze ve ne metto una la di un ascoltatore che ci ha mandato una mail da monza dice avevo prenotato un ad agosto del 23 e aveva appuntamento per il 2 di gennaio non è riuscito a partire il 14 di gennaio nonostante avesse mostrato la prenotazione dell'aereo cioè volevano la ricevuta del biglietto che lui evidentemente che non poteva avere perché l'aveva prenotato online tramite la figlia hostess eccetera eccetera sono tutta una serie di situazioni che si innestano in una situazione generale di disagio e problematica che rendono tutto impensabile cioè appunto anche da una questura come quella di monza è una una piccola aggiunta poi marco a quello che ci stavamo dicendo ragionamento generale all'intoppo che c'è nelle questure la domanda che continua a farmi io in questi giorni è ma davvero noi abbiamo un personale che è quello di polizia addestrato a fare determinate cose e a svolgere determinati compiti che deve stare là in un ufficio come nel caso della questura di torino c'è una grande città italiana che avrebbe probabilmente bisogno di un grande presidio del territorio e se non di un grande presidio del territorio di una grande presenza anche all'interno della stessa questura dei commissariati che deve impiegare del personale per stare dalle 8 del mattino alle 13 costantemente a seguire le file a controllare i biglietti a verificare che le persone abbiano determinati titoli a me sinceramente sembra una cosa assurda e anche veramente uno spreco di denaro e uno spreco del denaro che abbiamo investito nel formare queste persone tra le altre cose alcune testimonianze le abbiamo raccolte sui canali social del sole 24 ore sono veramente numerose leggo alcune per esempio manuela racconta commissariato di genzano di roma senza prendere nessun appuntamento in 20 giorni passaporti fatti per me mio figlio complimenti fortunata milano invece preso appuntamento a ferragosto per novembre che era la prima data disponibile ci scrive questa lettrice passaporto ritirato oggi 28 febbraio cioè ieri nonostante la presentazione sia stata fatta a novembre sarebbe un diritto averlo sottolinea la signora commissariato di martina franca meno di un mese per l'appuntamento il passaporto pronto il giorno dopo quindi basterebbe veramente casuale è adorabile questa cosa adorabile si fa per dire però che che adorabile questo fatto è puramente casuale però quello che mi avrebbe da dire anche nelle procedure interne di molti uffici no come il rimborso spese da noi come in tantissime altre lasci una pila di fogli e poi qualcuno le prende le processa basterebbe fare quello visto che la strozzatura è proprio quella della digitalizzazione però riaprendo il capitolo soluzioni manuela c'è in gioco poste italiane che domani parte una sperimentazione raccontaci un po di questa contromisura che è stata messa in campo appena il microfono riesce a ritornare il microfono allora dicevamo prima che in nessun paese esiste questo imbuto di una procedura interamente affidata alle sole questure per ovviare da domani nella sede di poste italiane il ministero dell'interno quindi il governo e poste sigleranno il protocollo operativo del progetto polis passaporti che cos'è è un progetto che prevede la possibilità di affidare anche agli uffici postali ad adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnologico nei comuni con meno di 15 mila abitanti la facoltà di accogliere le richieste e poi procedere con la consegna del documento non conosciamo ancora i dettagli sappiamo soltanto che la sperimentazione partirà innanzitutto nei due piccoli comuni del bolognese uno conta poco più di 10 mila abitanti l'altro addirittura una frazione di pochissimi abitanti e da lì nel giro di qualche settimana sembrerebbe che poi potrà essere estesa alla platea naturalmente progressivamente alla platea del di tutti i 7 mila uffici postali collocati in questi comuni è un progetto in cui dobbiamo per forza avere fiducia perché significa in ogni caso alleggerire le questure dagli oneri che dicevamo prima c'è una tema l'incognita diciamo tecnologica dobbiamo sapere se poi questi totem effettivamente funzioneranno e se il tema dell'interoperabilità tra le banche dati delle varie amministrazioni funzionerà però sicuramente è un tentativo di rinnovare l'intero meccanismo procedurale. Manuela c'è un ascoltatore che chiede ma il passaporto con procedura d'urgenza ha la validità analoga a quella di un passaporto tra virgolette normale? Hai portato a dirgli sì è un passaporto rilasciato normalmente giusto? È un passaporto rilasciato sì non è un passaporto temporaneo è un passaporto rilasciato normalmente. Ecco poi c'è una fattispecie che ci segnala un'ascoltatrice Vanessa Scarpati che riguarda chi è residente all'estero e non ha più un passaporto valido oppure vede che il passaporto sta per scadere se il tempo che lo distanzia dalla scadenza dal momento fino alla scadenza è inferiore rispetto al tempo d'attesa per la prenotazione si crea un problema di un italiano che all'estero non ha più un passaporto Simone. Guarda in realtà gli ascoltatori allora non so esattamente come funziona la procedura però quello che ti posso dire è che qualche ascoltatore dall'estero ce l'abbiamo e gli ascoltatori che ci scrivono dall'estero ci hanno detto che generalmente nelle ambasciate si procede abbastanza rapidamente nelle ambasciate nei consolati si procede abbastanza rapidamente su questo fronte quindi sono un po' più tranquilli. Quindi da Bari conviene andare a traversare l'Adriatico? Un'ulteriore nota se mi è consentito è questa su questa storia di poste che per carità ha ragione Emanuela bisogna sperare in questa storia di per carità tutti contenti se poi le cose funzioneranno una sperimentazione che parte piano io non parte pianino perché due comuni del Bolognese mi pare un po' pochino come partenza di sperimentazione detto ciò mi fa interrogare su un'altra cosa ma perché non farlo nei comuni come fanno in Francia? Io questa è una cosa che non riesco a capire ma perché dobbiamo transitare dalle poste che pur essendo un'azienda di Stato e pur sempre un ente di diritto privato, una SPA e non dobbiamo invece operare tramite i comuni fare gran parte della procedura tramite i comuni e poi una trasmissione digitale per esempio dei dati alle questure per le opportune verifiche tanto per dare un'idea o direttamente al Ministero dell'Interno. Quanto meno per il recepimento della pratica e della domanda richiesta. Immagino che la risposta possa essere le poste hanno un sistema informatico più omologato rispetto a quello dei comuni e quindi è chiaro che immagino che ci sia una risposta di questo tipo però il primo pensiero sarebbe facciamolo nei comuni cioè che no laddove si fa a cartaglio i comuni lo fanno cartaglio si farà a cartaglio laddove i comuni sono avanzati digitalmente si fa digitalmente almeno poi per carità è tutto tutto buono quello che serve a sveltire le procedure le pratiche e via dicendo però un elemento un piccolo elemento. I comuni intanto diciamo erogano le carte d'identità e quindi e già sono in ritardo su quello. Eppure Manuela c'è Roberto Giovani che dice che trent'anni fa tutto veniva consegnato in tempo infinitamente più veloce di adesso in assenza di digitalizzazione qui torniamo a quello che dicevi prima per cercare di agevolare processi della pubblica amministrazione la digitalizzazione ha creato quell'imbuto che in realtà sta bloccando milioni di persone. Perché è una digitalizzazione a pezzetti frammentata per frammenti non è una digitalizzazione che abbraccia l'intera procedura e questo è un limite lo abbiamo visto in tanti casi non soltanto in questo. Mi viene da dire però anche da fare un'altra osservazione ovviamente la situazione di trent'anni fa dal punto di vista della mobilità internazionale anche degli italiani non è paragonabile a quella attuale per cui è chiaro che tanti servizi che ci apparivano semplici sia dal punto di vista dell'accesso sia dal punto di vista dell'erogazione trent'anni fa oggi si sono complicati semplicemente per una questione quantitativa. Il tema è riuscire a rendere i processi della pubblica amministrazione digital first cioè pensarli interamente digitali e non innestare dei piccoli percorsi dentro il percorso più generale che poi diciamo si traduce nella stessa nello stesso lavoro manuale affidato agli stessi uffici come come se la digitalizzazione non ci fosse cioè in altre parole non possiamo pensare che la digitalizzazione della pubblica amministrazione in questo caso della procedura del passaporto si possa limitare alla prenotazione dell'appuntamento lo abbiamo visto è fallimentare perché crea l'imbuto e invece la digitalizzazione può essere più utile nel in tema verifica cioè incrociando le banche dati puoi vedere se una persona ha diritto o non ha diritto al passaporto questo in maniera molto agevole lì allora può essere sicuramente più più utile un processo digitali di digitalizzazione della pubblica amministrazione se non torniamo sempre al meccanismo simone in cui il cittadino fa da postino tra un ufficio e l'altro la pubblica amministrazione a quale dovrebbe semplicemente parlarsi tra tra uffici come come banana joe nel noto film di bud spencer esattamente la stessa scena lui che va da un ufficio all'altro uno di fronte all'altro uno gli chiede un documento che gli dovrebbe rilasciare l'altro ufficio e l'altro ufficio gli chiede il documento che gli dovrebbe rilasciare l'altro ufficio è più o meno più o meno quella scena là è un po è un po il funzionamento che abbiamo visto detto ciò ora dobbiamo anche dirci anche con una certa nettezza che ormai è un anno e mezzo due anni che andiamo avanti con questa storia cioè il fatto che si arrivi adesso alla sperimentazione del progetto polis è un tentativo di soluzione con qualche pezza messa ogni tanto tra cui appunto le aperture straordinarie delle questure quando e dove hanno funzionato e a seconda della quantità di personale che c'era nelle questure e tutte queste soluzioni di mezzo siamo passati da c'è troppa gente la gente richiede il passaporto perché non riesce ad avere la carta identità elettronica poi siamo arrivati a a un punto manca la carta dei passaporti c'era anche manca la carta dei passaporti abbiamo vissuto questa fase allora in in questo caso mi sembra con con tutto il rispetto naturalmente per il grande lavoro di diverso tipo che hanno che ha da fare forse il ministero dell'interno anche nella persona del ministro qualche responsabilità su questo se la dovrebbe prendere manuela noi abbiamo raccontato tu per prima con tutti i colleghi in questa inchiesta che è disponibile sul sito del sole 24 ore molto completa sulla problematica e sulle tentativi sui tentativi di soluzioni ha raccontato a tutto tondo questa dinamica domani parte una sperimentazione quali altri margini per sperare che il caos passaporti e poi con un refuso caso passaporti caos diventa subito caos passaporti questa situazione possa trovare delle soluzioni o quantomeno degli strumenti di gestione per consentire di partire la prossima estate qui la casistica è vastissima ci sono quelli che devono andare in vacanza quelli che vanno a studiare all'estero quelli che partono per l'estero per un corso di studi da agosto in poi cioè chi si deve trasferire per lavoro chi deve per lavoro come dicevo andare ad affrontare nuove dinamiche e nuove soluzioni di business come si dice e quindi tutta gente milioni di persone che sono in ansiosa attesa di avere una luce in fondo al tunnel allora la pressione delle associazioni del turismo è molto forte il ministro piante dosi le ha ricevute proprio lunedì mattina e si è dimostrato come dire disponibile a valutare anche altri tipi di soluzione io ricordo che una tra le soluzioni proposte anche dai parlamentari che sono più attivi su questo tema perché ricordiamolo al ministro piante dosi sono state in quest'anno presentate già tre interrogazioni parlamentari e un'altra è pronta a partire proprio sulla base dell'inchiesta del sole 24 ore una delle soluzioni dicevo più proposte è quella di aprire liberare il cosiddetto vincolo di territorialità cioè permettere ai cittadini di chi è di poter chiedere il passaporto anche fuori dal perimetro dei commissariati e delle questure di residenza ecco forse questa è un'altra un altro un'altra possibilità che dal governo potrebbero valutare detto questo il ministro ha ripetuto in tutte le occasioni che la situazione si va normalizzando ha usato queste queste parole bene insomma è una professione di fede che noi abbracciamo per il momento è chiaro che si si scontra quotidianamente ora dopo ora con un sito che vado a riprendere vediamo se si è bloccato ossia passaporti online polizia di stato punto it che in realtà è ancora bloccato quando appare testimonianza è magari trovi un appuntamento da milano a ro oppure pero ma riservato solo ai cittadini di sesto san giovanni anche questo è questa riserva territoriale che crea chiaramente una strozzatura alla all'ottenimento del passaporto si un altro elemento che non abbiamo ancora toccato perché l'abbiamo toccato prima prima della diretta e che però secondo me vale la pena sottolineare il costo l'allucinante costo che ha rinnovare il passaporto in questo paese manuela riporta benissimo nel pezzo nell'inchiesta realizzata al sole 116 euro è una cosa impensabile cioè quello arriva quello è un documento che serve per preservare la mia libertà di movimento in quanto cittadino perché se voglio uscire dal territorio italiano andando non nell'unione europea per la quale mi basta la carta identità ma in un altro luogo mi serve quel documento e quel documento non può costarmi 117 euro 116 euro è anche su questo bisognerebbe intervenire perché poi anche la le carte comportano spesa bollo il controbollo non mi ricordo esattamente quali manuela forse lo saprà meglio di me quali e quali sono esattamente le spese però 116 euro è una cifra signori mia una famiglia di cinque persone come quella di patrizia l'ascoltatrice che ci ha scritto spende 500 euro solamente per ottenere dei documenti sei quasi 600 che le servono per portare la sua famiglia all'estero mi sembra incredibile magari per il rinnovo non per il primo ottenimento ma per il rinnovo che non esiste più tra l'altro perché questo è un nuovo rilascio sostanzialmente questo è uno dei motivi per i quali si sta andando così veloce come se tu facessi il passaporto ex novo invece di rinnovarlo ecco mi fa piacere citare i colleghi che hanno partecipato all'inchiesta del sole 24 ore nino madore raul de forcade barbara ganza filomeno a greco davide madeddu donata marrazzo silvia per pieraccini michele romano vincenzo rutigliano ilaria vesentini e vera viola che hanno collaborato con manuela perrone in questa inchiesta che trovate a vostra disposizione sito del sole 24 ore prego la regia di darci una rappresentazione lo trovate sul nostro sito alla sezione 24 più perché è un'analisi molto documentata di una dinamica che preoccupa sempre di più in crescendo man mano che ci avviciniamo verso la bella stagione quando legittimamente pensiamo e programmiamo di andare in vacanza ringrazio manuela perrone per essere stata con noi per averci aiutato a fare chiarezza in questa dinamica presto manuela prima di salutarci però volevo far vedere la copertina del tuo libro è iscritto con stefano guzzilla parli di lavoro però del lavoro del lavoro tutto tondo il fatto che può essere un lavoro il lavoro può essere ancora uno strumento di elevazione delle persone giusto sì è uno strumento per recuperare senso senso di se stessi e senso della comunità grazie manuela perrone a presto buona giornata grazie grazie anche simona spezia simone tutte le mattine dalle 6 e 30 alle 9 alle 9 24 24 mattino su radio 24 per avere il quadro della giornata per partire con le idee chiare rispetto al mondo che ci circonda e quindi nella speranza di avere buone notizie anche sui passaporti vediamo grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto grazie a valentina tenani in redazione a massimiliano cipolla e riccardo virano da marco loconte l'augurio a tutti di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti